Partita la finale, ed è Varani, Carrer, poi Luciani, poi Saroni, andiamo a vedere sulla parte del tracciato opposta a quella d'arrivo con Asia Varani in testa, poi Carrer, poi Luciani, 30 metri, Saroni, Varani, Carrer, Luciani, ed eccole che si presentano sulla rettilineo d'arrivo con Asia Varani, Calertia, Carrer, Varani, Carrer, Luciani, andiamo alla finale dei senior maschi.